per ora via la tua mente è sempre più leggera per ora via la tua mente è sempre più leggera questo video è stato gentilmente sponsorizzato dai rap sono sicura che molti di voi tra i buoni propositi del 2023 avranno messo anche essere più in salute e sappiamo che per di più ci aiuta tantissimo a sentirci meglio e per questo a gennaio ci viene incontro a ERAP con una challenge sul sito di ERAP infatti possiamo trovare un piccolo e brevissimo questionario per capire il quantitativo di acqua che dovremmo bere al giorno e ERAP ci sfida per tutto il mese di gennaio a provare a bere questo quantitativo d'acqua ovviamente sarà molto più semplice con la borrazza e con i pod di ERAP io personalmente non ce la farei raggiungere un quantitativo di acqua così alto senza i pod di ERAP il pod che sto costando ora è alla vera e in ogni confezione classica di pod ci sono tre pod anche questo gusto è pazzesco, super interessante con il rosmarino e ogni pod dura circa 5 litri quindi tantissimo per facilitare ancora di più questa challenge sul sito di ERAP ci sono tantissime offerte sia per chi non ha ancora la borrazza di ERAP quindi vuole prendere il corrazza e i pods sia per chi ce la possiede e quindi ci sono offerte solo sui pods inoltre ho anche un codice sconto del 10% che è CHIARA SMR tutto maiuscolo che vale invece per tutto ciò che non è in offerta io vi sfido a fare questa challenge e a guardare il suo sito di ERAP quant'acqua dovreste bere al giorno ringrazio ERAP per aver sponsorizzato questo video e andiamo subito al video ciao 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 perdonate il motorino ciao 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 grazie di essere qui 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 con me oggi 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 facciamo un altro video di dormi 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 in soli 10 minuti ma ne avrei a disposizione molti di più Per prima cosa se questo video ti piace ricorda di mettere mi piace Oggi voglio proporvi dei suoni che mi fanno impazzire E il primo prima di togliere un pochino anche i pensieri e questo capirete perché è il primo Voglio impostare il mood della serata Voglio impostare il mood della serata Con una candela scopietante Grazie 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 Abriamola Adesso prendo Fiammiferi I fiammiferi I fiammiferi I fiammiferi I fiammiferi I fiammiferi I fiammiferi Non mi ricordo se ho detto una cosa quindi la li dirò Benvenuti Di nuovo benvenuti nella rubrica dormi in soli 10 minuti in realtà ne hai molti di più per dormire ma ti serviranno solo 10 minuti riproviamoci eccoci questa candela è una di quelle candele speciali perchè fa questo appunto suono scricchiolante che io adoro alla follia veramente ho scelto questa fragranza che si chiama Calming Retreat mi sembrava perfetta no? e anche i colori sono così rilassanti la mettiamo un attimo da parte spero che si senta direi che si senta però non so, mi piace la tengo io per un pochino perchè non mi piace come si sente lì in questa prima parte del video vorrei farti rilassare farti svuotare un pochino la mente da tutti quei pensieri che tentano a tornare non mi fatti dormire quindi adesso ti chiedo attraverso il mio soffio 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 lascialo andare lascialo andare guardalo scorrere ma non trattenerlo lascialo andare e per farti sentire il suono dei pensieri che vengono lasciati andare te lo faccio sentire te lo faccio sentire questo senti come vanno via senti come vanno via senti come volano via volano via e la tua mente è sempre più leggera è sempre più leggera è sempre più leggera è sempre più leggera lasciali scorrere guardali scorrere senti fermati questi pensieri non non sono importanti ora solo tu sei importante il tuo benessere è importante via 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 senti già la mente più decida, senti già che gli occhi e i tuoi meravigliosi entri cominciano a chiudersi non c'è problema, non c'è problema, lasciali chiudere lasciali chiudere se vuoi ti meriti questo riposo, ti meriti questo momento di pausa rilassa, ti lascia di andare adesso per farti addormentare voglio farti ascoltare e far vedere una cosa se hai gli occhi chiusi non ti preoccupare saranno bellissimi anche i suoni questo è un splendido calendario in realtà è del 2022 ma mi piace così tanto che ho deciso che lo utilizzano anche quest'anno in realtà per me è solo punta estetica in Cina e questo è il mese di gennaio e questo è il mese di gennaio il disegno originale direi che è in acquarello o comunque è uno di quei programmi che stimolano l'acquarello la scritta è appunto la scritta è appunto e e e e e e ci sono tutti dei frutti dei frutti e delle verdure tipici di costruire abbiamo un ricchino con tutti i semi un pochino di radicchio una bietola direi bieta coste non so bene anche qui anche qui abbiamo un aranzo un finocchio che bello che bello ok una mela una zucca abbiamo una zucca delle foglie una mela un aranzo un aranzo un lino un aranzo un radicchio E' per me di un bello esagerato questo calendario Non lo fa più alla ragazza che me l'ha regalato Però fa altre mille e mille cose che rispecchiano tantissimo il mio senso estetico Guardate che bello anche il febbraio Con le calote così, il mio figlio Meraviglioso Dietro ogni mese c'è una ricetta E vi lascio il suo nome in descrizione se volete andare a guardare Per me ne è di una bravura incredibile Possiamo dare senso questa scritta di là E qui c'è la ricetta Grazie 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 sono troppo contenta di averla in casa e penso lo sborrò sempre, non mi interessa se è del 2022 adesso voglio farti ascoltare un suono che ho fatto molto 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 brevemente e vi dico, mi prendo cura di te nel primo video dell'app e so che in molti mi hanno sottolineato di essere particolarmente lassante quindi visto che io vi ascolto, vi leggo, leggo tutti i commenti, tutti 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 ho riportato la bottiglia con questo tappo la faccio vedere da vicino per chi non avesse visto quel video a tutto il tappo con questa fantasia mi è piaciuto tanto lo scratching quindi e quindi Grazie a tutti. 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 Puoi farci. Grazie a tutti. Grazie a tutti. super versatile. Vi faccio. Vi faccio vedere. una batita. un soprano, un soprano. e un rasoietto, un rasoietto per il laser, un rasoietto per un rasoietto per un rasoietto per il viso. Anzi, proviamo a sentire questa cosa, vediamo se vi piace, ok questo è un suono che a me piace tanto, è un po' particolare però non era previsto in questo video, però quasi niente previsto nei miei video, tutto un po' a sentimento, mi faccio trasportare per la fantasia dei suoni guardiamo un altro poco e non mi piace tanto tanto questo suono, proprio... probabilmente è una cosa mia, non lo so ... Grazie. Ditemi, ditemi, cosa ne pensate? Sono onestamente curiosa di sapere se sono l'unico che vi piace. Torniamo all'astuzio. Ecco perché mi piace tanto. Allora questo è un tuffo nei miei ricordi. Una dei primissimi canali che ho iniziato a seguire ancora prima di avere il gran smr era Britney, una ragazza americana. Veramente molto carina e che faceva molto un clicking spaziale. Adesso ho smesso di fare video da un po' di anni e per me era proprio la mia preferita. Quante notti ho dormito, che non so, c'è l'orecchia nella verità. Lei aveva questa donut pouch e questa piccola pochette che proprio si chiudevano così, che però non ti importava ogni. Ecco, una fantasia con delle ciambelline di donut pouch e quando le spremeva... faccia con delle ciambelline di donut pouch. Faccia un suono molto molto simile a questo. Erano un po' più sticky. Li ho cercate a lungo perché volevo ricreare quel suono ma non li mai trovate. Un po' più vicino che la celluletta neva. La celluletta si c'era un po' più ricciata che e le spaventate appena. Lo上 sul cibo. Da' un po' più riccozza, ripenti un po' più riccozza. 4 orelli, riporti un po' più riccozza. Per quanto la celluletta si il prodotto era più riccozza. Alla questa parata. questo è il motivo per questo suono mi piace così tanto per questo suono mi piace così tanto mi mette proprio tanto di buon umore perché è proprio un bel ricordo non dite se mi piace chissà se fosse riuscita a trovare qualcosa che sia mi vorrei cercare di farli però totalmente scordata di queste cose ma questo suono perché non so se noti ha questa rifinitura non piana non so come definirla non tanti non dico con quadrillo però vabbè però si sentono vediamo se riesco a farla essere bene così si vede ma è un pozzetto non è un pozzetto Raga, ma è un pazzesco Mi piace da matti, da matti, lo giuro Tutto perfetto Tutto perfetto Tutto perfetto Che bello Mi dispiace di avermi mostrato questo suono per ultimo Perché è il migliore Troppo bello Tutto perfetto Grazie. e anche questo suono mi sto esaltando per così tanto poco buona buona ok 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 Queste ore che vi piacciono lo sport perché mi fa impazzire, adoro, adoro, adoro. Allora, direi che i dieci minuti in cui dovreste esservi addormentati sono abbondantemente passati. Se siete miracolosamente arrivati fin qui, commentate con le emoji di un albero, c'è una piantina, di una foglia, insomma. E questo mi piace tanto. Questo trappi. Ok, promesso, questo trappi, prometto, ve lo porto in un video noturico, un tipo di background per dormire, ok? Sì, ricordatevelo. Per abbassare le luci, per augurare la buonanotte, volevo riaccendere la candela. Ok. 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 Ehi ho andiamolo qui e io penso proprio penso proprio penso proprio 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 si aggiunta l'ora di passare le luci e augurarvi augurarti 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 buona, buona notte buona, 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 buona notte buona notte buona notte i miei piccoli pasticcini alla lavanda buona notte buona notte buona notte buona notte buona notte